Amici, oggi sulla serie vanilla di Minecraft andremo a fare una casa un po' particolare Guardate il video fino alla fine perchè è tanta roba E ovviamente una cosa che non vi dico mai Attivate la campanellina così non vi perderete nessun video Cioè non perderci nessuno Iniziamo e attivate la campanellina Amici benvenuti nella costruzione della casa a forma di crafting table Allora, eh niente, ho già sbagliato Cioè partiamo, che sbaglio, che fallimento Allora bisogna fare un quadrato 16x16 Vi faccio il taglio, voglio farlo alternato, ovvero così Se lo volete fare anche voi usate i materiali che volete Comunque 16x16 e ci vediamo tra poco Una volta fatto il 16x16 e perchè c'è una mucca lì dentro ogni volta che sono le mucche Facciamo dei pillar ai lati di 5 O mio Dio non ho contato 1, 2, 3, 4, 5 E sta piovendo Ok, ok, allora una volta fatti questi pillar dovrete collegarli tutti Ora mi sa che conviene scendere e far così, esatto Io ho deciso di prendere il black coal perchè, sì, era carino Perchè avevo una sbrega di carbone Però voi potete prendere volendo la lana nera o comunque qualche blocco nero Che più vi piace Poi una volta finito di collegare, qua sarà la parte un pochino più lunga Ovvero con le assi di legno e di quercia dovrete andare a chiudere il tutto Ci metterete un po', sì, vi farò il taglio chiaramente Però basta che abbiate capito Per ora facile, facile Dovete semplicemente creare un muro Tranquille boys Che l'entrata la facciamo dopo E mentre metto le assi di legno e di quercia Vi inviterò a dormire a seguire su Twitch Perchè mado, mado, dico solo mado Così vi lascio un po' il mistero Spammate a parte Ci vediamo dopo Dovete semplicemente chiudere tutto Ok, una volta finito questo fortino Perchè chiaramente diventerà un fortino inespugnabile Altro che casa Come tetto, diciamo, per renderlo appunto Per renderlo appunto uniforme alla costruzione vera Ci andiamo a mettere le acacia, se non sbaglio Sì, le assi di legno e di acacia E andiamo a chiudere il todo Con questo modo spagnolo Perchè devo dirlo in spagnolo? Vabbè, e vabbè, niente Continua così, avete capito come fare Allora, le acacia le abbiamo messe Ora c'è la parte un po' più complicata Ovvero dovremmo allungarci di quattro Uno, due, tre, quattro E fare tipo un pattern di crafting table E a spiegarlo è uscito male Però nella mia testa funziona Ovvero fare una roba del genere Vediamo se è giusto o sbagliato Dovrebbe uscire giusto? Vabbè, saliamo dall'alto Ehm, sì Esattamente quello che ho in mente E lo dobbiamo fare su tutti e quattro i lati Quindi ci allunghiamo di quattro Uno, due, tre, quattro E andiamo sostanzialmente a spaccare qua Tec, vedete? Ok, carino No, la mia acacia No, l'ho perso per te E niente Ora, volete vedere la vera figata Ah, e ho messo questi qua Dell'egnetto Ma dopo ve lo faccio vedere dall'alto Dovete disegnare sostanzialmente Distruggendo i blocchi che avevate messo in precedenza Esattamente Dovete disegnare una sorta di quadrato E io ci metterei O meglio, ci metto Il calcestruzzo marrone Quindi, spaccate il tutto A un blocco di distanza dal secondo dell'angolino Vabbè, avete capito L'avete anche visto E praticamente ora vi faccio vedere esattamente cosa ci andremo a mettere dentro Per renderlo appunto una crafting table vera e propria Una volta fatto il bordo Almeno credo di non sbagliare Di dover distruggere ogni due blocchi Esatto E di metterci altro calcestruzzo Per fare tipo i quadratini che ci sono in mezzo alla crafting table Che conoscete meglio di me Li distruggiamo anche per questo lato Così siamo sicuri di non sbagliare Tec E l'ultimo dovrebbe essere qua Esattamente Vediamo se mi esce giusto Intanto sto sprecando un botto di quei materiali Che non ritroverò mai più E niente Mettiamo i cosi E in teoria dovrebbero andarsi a creare dei mini quadratini Che come andremo Come andremo a vedere Vanno a creare appunto la crafting table Fatemi vedere dall'alto va Molto molto alto Carina Signori carina Molto carina Dai Sì Ci può stare Una bella idea Auto 5 Eh sì Meritato Fatemi sapere nei commenti Tra l'altro cosa ne pensate E se anche voi La vorreste riprodurre Comunque la state facendo indiretta Mentre sto parlando Ok Quindi la parte sopra Fatto E piove sempre incredibile E allora Stavo mettendo i vetri Ma cavallino Che cacchio vuoi fare Vabbè Allora Alla sinistra L'ottavo blocco E anche della destra Così almeno lo fate centrale Metteteci dei vetri Per fare appunto Il pattern sul lato E qui Al posto di lasciare Quelli normali Che ci stanno un po' stretti Ci andiamo a mettere La nostra buona Vecchia caccia Che ormai sto finendo Però Così esce carino Vado Sembra Sembra la faccia Di un mostro ragno Ok Non è più tanto carino E lo andiamo a fare Anche sui altri lati Ovvero puntate 8 1 2 3 4 5 6 7 8 E Ovviamente Spaccando con una forza Incredibile Mamma mia Qua dentro Ah la caccia Sì tutta la mia Sì Sì la caccia Sì Sì Dammi Facciamo finta che non l'abbiate visto E sentito niente Ci facciamo come prima Il pattern Uguale uguale E lì ci sono ancora i miei razzi Che sono sempre più belli Ogni volta che li vedo Bravi razzi No ho sbagliato Addio vetro Non ti avrò mai più indietro Ok E niente Lo fate su tutti i lati Vi faccio il taglio Avete capito come fare Siete sicuramente Ovviamente No ho sbagliato Più bravi di me Perciò ci vediamo dopo I vetri Una volta fatto il tutto Decidete dove fare l'entrata La facciamo tipo Qua Ho preso dieci porte Ok Perché magari potete fare più entrate Non lo so Vedete voi Comunque la facciamo tipo Qua Però Ho sbagliato Perché sinceramente Vorrei fare il Coso qua sotto Di Oak Perciò Almeno per renderlo tutto uniforme Se no sta male Ci facciamo un'entratina qua Eh Te che l'entratina Eh Eh Ora però Bisogna cambiare Il terreno E cosa non mi sono preso I yoke Quelli stripped Allora per quanto riguarda La decorazione No No Amici Ma no È stato il momento Più impanicato Della mia vita Non voglio farlo mai più Allora Dicevo Per quanto riguarda La decorazione Degli interni Mettiamo queste belle lanternozze Ai lati Ovvero dove tocca L'angolino Della crafting Appunto E le mettiamo Quattro È carino Togliamo ovviamente Queste torce Dopo metteremo altre illuminazioni Perché si è fatta Dannatamente notte E chiudiamo la porta Per sempre Al centro di tutto Ci mettiamo Allora Un doppio letto Quindi Bello prepotente E ai lati Ah io È vero di terreno Ci ho messo questi qua Dove sono Dove sono Tronco di quercia Scortecciato Perché volevo Potete ovviamente Metterci tutto quello che volete Però Boh Questo qui rende più Legnoso Il tutto Non lo so Mi ispirava Mi ispirava Comunque Al centro Ci mettiamo appunto I due letti E qui di lato Ci mettiamo Le scalettine Tipo una cosa del genere Tac tac E poi Il tutto Che va a collegare In modo perfetto E un botto Simmetrico È un po' inquietante Però carino Allora facciamo così Per renderlo più Presentabile Ai lati Ai quattro lati Ci voglio mettere Le crafting table Quindi Tac Tutte crafting Belle 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 prepotenti Dove sono Grazie Signorina Crafting table Grazie Ok Quindi Una Dos Tres E quattro E invece Qui sul pavimento Ci voglio mettere I tappetini Perché Di sì E soprattutto Mi voglio sparare Perché mi sa Che non ne ho presi Abbastanza Oh Forse l'ho presi giù No raga Ok Me ne avanzano due Pensavo di averli presi giusti Dai È già più carino È già più presentabile Però c'è poca illuminazione Mi sa che devo aggiungere luci E guardate la tecnica per aggiungere luci Allora facciamo una roba così Io ho fatto un mega taglio Per me è passato un secondo per me Tipo 20 minuti Perché ho messo i barili Che non mi ricordavo come craftare Quindi sono anche storage bowl Diciamo in inglese Perché non mi ricordo come si dice in italiano E ora dobbiamo decorare i lati Scegliamo non lo so ad esempio questo lato Ho preso le botole di acacia Per appunto andarle a decorare Possiamo fare una cosa del genere E sopra andarci a mettere Senza rompere Grazie Possiamo andarci a mettere Le altre Guardate qua che tattica Che vado a chiudere il tutto Figo eh Carino 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 E ora lo facciamo anche di qua Però me ne manca una Dannazione Dannazione me ne manca una La prenderò dopo Non c'ho voglia Allora l'ho fatto anche di là E adesso sostanzialmente Andiamo a decorare il tutto Qua sotto Era venuta l'idea Di fare Una roba del genere Cioè alla fine Chi le nota che sono fornaci Eh signori Figo Allora facciamo una cosa del genere No qua non mi piace Però l'ho perso per sempre Lo mettiamo anche di qua Qua ci mettiamo una cesta Ovviamente ora le decorazioni Le fate totalmente a caso Cioè come vi piacciono Ho preso anche una Envil Tra l'altro Così Senza senso Che la mettiamo lì nell'angolino E Altra roba da mettere Vediamo se ci sta bene questa Altrimenti la togliamo Magari ci sta bene nell'angolino Ecco le mettiamo una nell'angolino Queste qua No le togliamo Vabbè Poi se mi viene in mente di mettere qualcos'altro Lo mettiamo Tipo il brewing stand Ci può stare E facciamo la stessissima cosa Di qua Lo faccio No Lo facciamo uguale Sì dai lo facciamo uguale Sperando di avere tutti i materiali Questo qua E questo qua Carino dai Dai ci sta ci sta Qua ci voglio mettere il brewing stand Sia lì che lì Ok ok E ci facciamo anche le ceste qua sotto Ma sì dai Ho preso anche dei cosi qua da dare ai Yomini Tech Dell'armatura Così almeno ci abbiamo guardiani Non ho preso le armi Ma non ho voglia di tornare indietro E ho preso anche delle Scaffale Tutte robe varie Che nel prossimo episodio Comunque in un'altra Ah il live Lo facciamo in live Andiamo a fare qui Il coso degli incantesimi Vedete c'ho il tavolo degli incantesimi E anche gli scaffali Quindi c'ho tutte le robe Giuste per farlo Ora diciamo che per questo episodio È tutto Dai è una figata Signori è una figata Qui ci facciamo il coso degli incantesimi E qui non lo so Non ci ho ancora pensato Lo faremo in live Ne parleremo in live E non ho preso il brewing stand Dannazione Vabbè quindi signori Salvo ed esco Come alla fine di ogni episodio Spero che questo video vi sia piaciuto È stata una casa Dai molto carina Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Allo solito ero Ovvero le due e mezza Per un nuovo video Ciao Ciao